Amici di Toro.it Per un'ultima seduta qui nella cittadina dell'Alto Adige, questo pomeriggio infatti sul sintetico di Brunico si alleneranno i giocatori che invece partiranno con Ventura per Stoccolma. Dopo l'allenamento pomeridiano la squadra partirà alla volta di Verona per Notterra in Veneto. Domani mattina la partenza del charter che porterà la squadra a Stoccolma dove i ragazzi di Ventura vivranno la vigilia della gara di Europa League prevista per le 19 di giovedì 31 luglio. Contro il Broma Puicarna Ventura dovrebbe aver recuperato Glick che si è allenato con la squadra già ieri e Barreto che ha anche disputato la partita contro il Teramo l'ultima vichevole qui a Riscone di Brunico.